Non siete nessuno, non siete nessuno, non siete nessuno, siete una squadra o facete calci italiani e non siete nessuno, vabbè ci seguirete domani che andrete fuori, questo è poco messo perché non siete nessuno. E' arrivata in tutte le farmacie Brucia Cool per persone invidiose, Brucia Cool, la prima crema rettale indicata per tutti i rosiconi, la pomata per invidiose. trasformerà il vostro ufficio in un luogo più amichevole e collaborativo e con Brucia Cool il tuo sedere sarà più felice di un bambino con un gelato. Usala subito.